Siamo qua in Valseriana, oggi facciamo il Pizzo della Presolana. Lasciamo la macchina sul passo della Presolana vicino all'hotel Spampani. Prima di dirigersi alla Grotta dei Pagani consiglio una piccola sola strada di barco di Crusone in modo di fare un piccolo break e poi attaccare la vetta. Siamo finalmente in Valseriana, la Grotta dei Pagani dopo un breve video gaioso. Ora finalmente alla mia sinistra inizia la parte vera di questa escursione per arrivare al Pizzo Tosolana. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.